buongiorno buongiorno a tutti carissimi buon venerdì mattina 2 settembre siamo entrati in settembre 2022 questa è la rubrica una settimana d'ordinaria follia come stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte vi leggerò un'interessantissima intervista faremo alcune riflessioni in approfondimento per un po' almeno cambiamo la solita forma di questa rubrica prima leggevo le tante notizie copiglio ironico vediamo se anche in queste letture più approfondite emerge un po' di ironia non lo so comunque in questa fase non trovo sensato leggere l'insensatezza delle informazioni dei nostri giornali che stanno sempre in superficie sono ormai il ripetersi di un teatrino assurdo dell'assurdo rispetto a queste elezioni farsa è meglio andare in profondità leggendo analisi attente accurate intelligenti allora per questa giornata desidero leggervi un'interessantissima intervista apparsa sul sito di mit dolcino se volete andate su internet basta scrivere mit dolcino punto come accedete al suo sito il titolo è le persone in europa sono in una gabbia ideologica l'intervista è stata fatta da andrei revski the shaker credo che the shaker scusate the shaker che è un grande falco se non vado errando ho cercato di informarmi un attimo perché non capivo sarà la torta la sucker o è the shaker e credo che spero che sia il falco ma anche la torta a noi ci piace anche la torta e se volete andate sul suo sito sa che era italia punto it sucker con la k sa che ritaglia punto it bene è un'interessantissima intervista abbiate pazienza vediamo se riesco a sintetizzarlo un po è molto lunga ma la condivido ampiamente quasi in tutte le sue parti 8 agosto 2022 l'ho intercettata solo di recente ma è attualissima anche perché riguarda il futuro nostro dell'europa del mondo più in generale è veramente un'intervista illuminante quindi sigla e poi vediamo gli aspetti principali di questa intervista del nostro falco il falchetto falcotto sigla allora prima domanda che è stata posta al nostro analista andrei revsky la prima domanda è la seguente russia e stati uniti sembrano sfidarsi pesantemente un grande cambiamento rispetto all'era trump solo due anni fa come siamo arrivati così rapidamente a questo terribile punto risposta non sono d'accordo che ci sia un cambiamento di atteggiamenti dalla posizione di trump la russia e gli stati uniti erano uno contro l'altra già almeno dal 2013 trump si vantava di aver imposto più sanzioni di chiunque altro di qualunque altro presidente della storia degli stati uniti che non è vero perché probabilmente quel presidente biden ovviamente al tempo trump non lo poteva sapere biden è arrivato dopo e ha fatto anche meglio o peggio a seconda dei punti di vista la realtà è che l'apparato politico americano è veramente coeso su tale questione repubblicani o democratici non fa molta differenza un po come dire coca cola o pepsi la vera ragione per questa contrapposizione molto semplice gli stati uniti dipendono politicamente economicamente sul concetto di mondo unipolare mentre la russia così come la cina l'india o anche l'iran vogliono l'indipendenza e questo da sola sta a significare che gli stati uniti rappresentano una vera e propria miraccia per questi paesi e viceversa questo secondo me è un punto fondamentale che dobbiamo capire perché credo appunto che sia uno di quegli aspetti basilari che muovono tutte le dinamiche belliche politiche anche poi la mistificazione che generano i nostri pseudo giornali abbiamo un mondo unipolare una visione unipolare e l'impero americano dovrebbe continuare a governare il mondo intero come è successo nel crollo del muro del berlino dall 89 sino circa al 2001 quando si scatenò la guerra del terrore quella guerra che era necessaria mantenere appunto questo stato unipolare dall'altra parte abbiamo delle potenze che ad esempio come la russia che dall'unione sovietica è divenuta la federazione russa si è rialzata è riuscita a tornare protagonista nello scenario internazionale la cina è sostanzialmente una sorta di frankenstein prodotto dagli stati uniti che poi più o meno volutamente ha iniziato a liberarsi e cina russia iran brasile e tanti altri paesi anche l'india per certi versi possono competere contro gli stati uniti unicamente se divengono sempre più coesi quindi da una parte abbiamo una visione unipolare un centro di potere che è la sfera anglo americana con l'europa che sostanzialmente è una colonia dall'altra parte invece abbiamo degli stati abbastanza indipendenti abbastanza ancora con una forza effettiva nazionale che però alla fin fine divengono una sorta di secondo polo perché fanno una coalizione praticamente quindi abbiamo due grandi poli da una parte diciamo che abbiamo i brics e tutta quella sfera e atmosfera dall'altra parte l'anglo sfera bene andiamo avanti vediamo dove siamo arrivati questo è un fatto non è una questione di torto ragione ma i due sistemi sono così fondamentalmente incompatibili che uno dei due deve assolutamente scomparire deve essere sostituito dall'altro quello che vediamo oggi è un innalzamento del livello di confronto siamo infatti molto vicini a una vera e propria guerra l'occidente ha aggredito la russia ecco qua qualcuno può dire no è la russia che ha aggredito l'ucraina io ricordo che ci sono dei fatti che ci danno la possibilità di avere una visione più ampia i fatti che hanno visto hanno visto i territori russofoni praticamente devastati da una certa politica di kiev che è una politica a mio avviso fomentata dalla dall'inghilterra dagli stati uniti una politica di discriminazione di segregazione e di crimini contro l'umanità perché si calchiano circa 15 mila vittime nei territori russofoni se non andiamo a se non mettiamo sul tavolo questi fatti vabbè è chiaro che è bene male bianco nero andremo avanti con la solita tarantella se abbiamo tutti i fatti poi possiamo iniziare a parlare non tanto di chi ha torto ragione ma di quali sono le soluzioni qual è la strada per la pace invece questa banda di stupidi continua a fare a tenere in piedi la musica del padrone quindi devono dire sempre entrare nella dialettica nella struttura io ragione tu hai torto ma questa dinamica porta a quel che adesso ci dirà il nostro analista uno dei due blocchi deve vincere sull'altro punto e ormai forse secondo questo analista io rimango un po possibilista ma forse sono un illuso siamo entrati siamo già arrivati ad un punto di non ritorno uno dei due blocchi deve vincere punto non sembra ci sia più possibilità per un'armonizzazione delle posizioni però veramente continuare a far finta che ad un certo punto la russia travolta da un eccesso di vodka abbia deciso di distruggere un paese mettere a rischio gli equilibri del mondo mi sembra una lettura veramente non so più come definirla ok siamo alle soglie di una guerra totale due sono i segnali uno è diretto la guerra in ucraina mentre secondo il fatto che gli stati uniti non hanno voluto entrare nel conflitto con la russia queste sono le condizioni per una guerra totale seconda domanda ucraina e russia in guerra l'unione europea sembra avere un'enorme responsabilità si tratta di errori di calcolo ad esempio per quanto riguarda north stream 2 il nord insomma il condotto del gas 2 e la presa di biden sul potere reale degli stati uniti o c'è dell'altro penso veramente che ci sia qualcos'altro non penso che questo fosse un errore di calcolo nonostante l'occidente abbia fatto notevoli errori c'è comunque una differenza sostanziale tra l'obiettivo e il modo in cui questo obiettivo viene raggiunto prima di tutto l'unione europea e i suoi politici non hanno alcun peso decisionale lo ripeto io la sposo in pieno l'europa i suoi politici non hanno nessun peso decisionale anche se li vediamo coinvolti in ucraina e anche in serbia ecco pure là dovevano andare i politici dell'unione europea altro non sono che strumenti degli stati uniti e per l'america la russia è una minaccia enorme così come lo è la cina il piano era di colpire la russia affinché questa collassasse economicamente detronizzando putin riportando la russia ciò che era negli anni 90 così che gli stati uniti si sarebbero ritrovati faccia a faccia con la cina questo era il piano ma è fallito per molteplici ragioni anche per errori strategici siamo onesti non c'è nulla di nuovo qui l'occidente ha combattuto la russia per molti secoli non importa quale fosse il pretesto poteva essere imposto dal papato la rivoluzione francese il nazismo ora le attacchiamo in nome del liberalismo i valori del liberalismo che si scontrano con i valori autocratici c'è sempre un pretesto la realtà è che l'occidente io direi gli stati uniti e l'inghilterra la gran bretagna vuole la russia divisa in più parti per avere così accesso alle sue risorse naturali che sono sconfinate il suo territorio sconfinato io la sposo questa lettura un altro punto è che è la stessa cosa che è successa in yugoslavia che è divenuta ex yugoslavia abbiamo anche i documenti trattati dove si prevedeva la balcanizzazione un qualcosa di progettato frammentare un paese che unito può essere pericoloso sapete la gente quando è unita serena e cresce è pericolosa la realtà è che l'occidente vuole la russia divisa in più parti per avere accesso alle sue risorse un altro punto è che da quando putin è salito al potere la russia ha sfidato ideologicamente l'occidente che è del tutto inaccettabile quindi l'obiettivo era guerra totale contro la russia in modo in modo che come scritto in modo in cui hanno provato a perseguire l'obiettivo sta portando l'occidente al collasso il modo in cui hanno portato avanti questo progetto sta portando l'occidente soprattutto l'europa al collasso è un problema di definizioni ma se parliamo a scusate c'è una domanda in mezzo a cinque pubblicità non l'ho vista nazismo è un termine a cui qualcuno soprattutto nell'unione europea vuole ridare dignità per il grande pubblico cosa c'è dietro kiev e le sue antiche radici sono in gioco sta parlando dei tipo del battaglione azov e della presenza di battaglioni neonazisti in ucraina e poi sta parlando ovviamente di tutto quel che è accaduto dal 2014 in poi e del tentativo di praticamente fare una pulizia etnica all'interno dell'ucraina e ci sono i documenti io non ci posso fare niente cioè se non li fate sparire proprio tutti cercate di far dimenticare alle persone quel che hanno visto ci sono questi documenti ricordiamo il massacro della casa dei sindacati ad odessa ci sono i video le foto sparavano alle persone in testa le ha dato fuoco alla casa dei sindacati la gente si buttava giù dalle finestre in fiamme poi veniva uccisa sul terreno cioè questo significa essere filo russi e va beh se la volete mettere così se siamo a questi livelli qua e non andate oltre non è colpa mia allora la risposta del nostro analista è un problema di definizioni ma se parliamo di etnia razza e nazionalità che è estremamente ostila tutto ciò che è differente da essa notiamo che il socialismo nazionalista un nazismo è ancora presente nella cultura occidentale e qua è dura tanti impazzirebbero a sentire questa cosa come l'occidente nazista è ancora presente il nazismo e no noi abbiamo i diritti festeggiamo il giorno della memoria vi ricordate quante volte ho riflettuto sul giorno della memoria che diviene il giorno della dimenticanza vabbè dopo la seconda guerra mondiale ci fu una sorta di denazificazione ma fu fatta soprattutto per dare il contentino alle masse la realtà è che anche prima della seconda guerra mondiale gli americani e gli inglesi stavano negoziando con i nazisti all'insaputa dei sovietici hitler non fu che una proiezione dell'occidente perché fu un fdp un figlio ma fu un fil dp dell'occidente il nazismo sorge generalmente quando c'è un collasso del sistema capitalistico e quando analizziamo il crollo sociale economico culturale spirituale dell'unione europea in questo momento possiamo vedere come la repressione il nazionalismo siano le uniche vie adottate dai leader al fine di mantenere il controllo di una popolazione che non riescono più a servire ora quando dobbiamo pensare al nazionalismo i baffetti e il nostro mento volitivo eccetera stiamo parlando di un ipernazionalismo che lo vediamo nell'idea di europa più europa noi siamo l'europa stanno cercando di creare un ultranazionalismo europeo dove addirittura i battaglioni neonazisti ucraini alla fin fine vengono ripuliti si però si ispirano leggendo Kant sapete leggono il main Kant non sono cattivi alla fin fine questo serve a dare una coesione anche il nemico russia è utile ad un'unione europea che ne ha combinata una più di bertoldo e sta creando una sofferenza interna ai suoi stati che sono trattati come delle piccole regioni di ignoranti incapaci che porta ad un potenziale esplosivo però sino a quando riesce a creare il gioco del nemico la paura noi siamo coesi per un ideale però non sta funzionando tanto perché queste sanzioni alla russia che sono state portate sino all'estremo sostenibile dall'europa e l'europa non le sostiene più non sta incendiando tanto la popolazione abbiamo visto un sondaggio in italia quanti appoggiano la guerra in ucraina il 20-30% e però il governo si vede che fa proprio l'interesse del popolo ed è specchio del popolo va avanti con la guerra e i finanziamenti allora il nazismo sorge il nazismo, i fascismi, i totalitarismi di questo tipo dice una cosa importante anche a livello storico sorgono quando c'è un collasso del sistema economico qua dice capitalistico io direi anche in generale economico poi si potrebbe anche analizzare che pure nelle strutture comuniste alla fine c'è una forma di dialettica bellica di costruzione del nemico il bene e il male e quando il sistema diviene sempre più totalitario soffocante si comporta esattamente nell'essenza e nei risultati e nei fini come si comporta un sistema dittatoriale di stampo nazionalsocialista nazista o fascista le abbiamo già analizzate queste cose perché sono due facce della stessa medaglia va bene per cui nulla di nuovo sotto il sole parlando dell'Ucraina dobbiamo dire che sono una parte che solo una parte di essa è nazista non è vero che lo sono tutti come in ogni nazione alla fin fine gli esaltati poi non sono tanti è che se iniziano ad avere potere combinano un gran casino non è vero che lo sono tutti ma l'identità che i più fanatici hanno assunto non fa parte della storia dell'Ucraina e se li prendi come simbolo sembra che sia normale che in Ucraina ci siano i nazisti vabbè questo passaggio qua è un po' raffazzonato secondo me era inevitabile che i nazionalisti ucraini seguissero bandera che fu e che è la soglia d'accesso per il nazismo e gli europei non possono denunciare il loro stesso agente a Kiev per cui pretendono che non ci sia nazismo o se c'è è da capire ed è un nazismo buono e questo è vero l'abbiamo sentito addirittura i nostri soloni in tv sì vabbè hanno un tatuaggetto dicono che vogliono buttare fuori non so centinaia di migliaia di persone o le metteranno nelle cantine ma va bene sono buoni c'è infatti una spaventosa riabilitazione del nazismo in occidente ed è normale perché altro non è che il risultato del collasso socio-economico che stiamo vivendo guardate che io la leggo in fretta però vi ho detto dove trovarlo andrebbe meditato altra domanda molti pensano che siamo già nella terza guerra mondiale una guerra ibrida a livello locale potrebbe essere una guerra standard a livello scusate a livello locale una guerra standard come ad esempio in ucraina cioè armi, bombe eccetera a livello globale è certamente ibrida cosa possiamo fare in primo luogo per sopravvivere in secondo luogo per proteggere la nostra famiglia e i nostri figli in terzo luogo come organizzare efficacemente una reazione e qua da una risposta per me interessantissima ti condivido in pieno dice sono totalmente d'accordo siamo in una guerra ibrida e hai anche ragione quando dici che in certe zone questa guerra è tradizionale in altre è meno convenzionale ma stiamo vivendo una guerra mondiale questo è sicuro ecco a quelli che mi parlano dell'Italia democratica c'è libertà non andiamo alle votazioni non avete capito che siamo dentro una guerra una guerra ibrida totale se non abbiamo capito che siamo dentro una guerra quando esplode una guerra è difficile parlare di costituzione democrazia libere elezioni perché tutto è falsato dalle necessità e desiderata dei poteri però bisogna leggere qualche libro non è che si possa proprio sparare bisogna anche rivedere un attimo la storia quel che è accaduto la storia si ripete sempre perché viene imparata a memoria e non viene compresa onestamente veramente poco scusate cosa possiamo fare questo passaggio vi prego meditiamolo cosa possiamo fare onestamente veramente poco perché quelle che si stanno muovendo sono zolle tettoniche e non c'entrano le tette del sottosuolo le grandi zolle di terreno che quando confliggono producono terremoti o ad esempio anche eruzioni vulcani vulcani parole complesse stiamo parlando di opporsi agli interessi degli USA della Russia della Cina dell'India dell'Iran del Brasile di altri paesi questa è veramente una guerra mondiale e una volta che inizia c'è solo una via d'uscita che qualcuno vinca quindi mentre si decide chi vince chi perde noi facciamo posti teatrini per quello non li leggo più votiamo qui sfruttiamo quel cellamiloni che cambierà tutto ma appena detto che segue perfettamente la linea atlantica e ti credo che segue la linea atlantica con tutte le basi che abbiamo i servizi che abbiamo se si mette a fare la rivoluzionaria o a fare la politica che interessa l'Italia probabilmente il giorno dopo qualche non lo so qualche problema lo avrebbe insomma non si può tornare allo status quo di prima ritornare a una qualche coesione pacifica quel punto ormai è stato superato la guerra terminerà solo quando una delle due parti vincerà e questo fa emergere la domanda noi come individui cosa possiamo fare prima cosa possiamo denunciare ciò che sta accadendo possiamo dire la verità i fatti più oggettivi sia di una parte che dall'altra e non schierarci come dei cretini possiamo combattere la propaganda dei governi ed è cruciale che non riconosciamo l'autorità di coloro che sono nominati come leader negli Stati Uniti in Israele uno degli slogan un tempo era non a nome mio penso sia molto importante anche se siamo in pochi affermare che non sosteniamo quello che sta succedendo io l'ho detto sin dall'inizio la resistenza la disobbedienza civile viene soprattutto dal no non aderisco non lo fate in nome mio allora tutto ciò non fermerà la guerra ma ne cambierà la natura e inoltre è molto importante separare è inoltre molto importante separare l'Unione Europea dagli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno energia hanno più risorse la situazione qui lui parla dagli Stati Uniti è pessima ma penso che l'Unione Europea sia sul punto di crollare definitivamente se ci pensate bene nessuno Stato Europeo ha voce in capitolo a eccezione dell'Ungheria e anche l'Ungheria è ambigua su molte cose gli Stati dell'Unione Europea non riescono a formulare una vera e propria politica di sicurezza quindi la conseguenza di questo è la caduta dell'Unione Europea e gli Stati Uniti perderanno la loro influenza sull'Europa occidentale qua l'abbiamo già analizzato comunque ci torneremo su la posizione americana che è in un certo senso win-win perché se riesce ad utilizzare l'Europa per vincere sulla Russia bene crea una sorta di balcanizzazione della Russia è fantastico avendo distrutto l'Europa ma fantastico se non ce la fa si risucchia tutti i capitali la forza e tutto ciò che ha di valore l'Unione Europea perché l'avevamo spiegato lo rispiegheremo tutti i capitali tendono a fluire negli Stati Uniti durante questo crollo dell'Unione Europea perché non li porti in Cina che non è proprio una specchiata di democrazia in Russia ti è impedito e non vai in India dopo se qualcuno vuole andare in India vada in India forse il futuro sarà simile all'invasione di ossia qua ci sono dei puntini ossia un'Europa dei nostri padri un continente composto di nazioni che collaborano insieme fondamentalmente un'unione di nazioni sovrane penso che questo scenario abbia più valore di quello che vediamo oggi sì ma cosa dobbiamo pagare per tornare a questo scenario per avere questo scenario eh vabbè infine non penso che la guerra in Ucraina si trasformerà in una guerra a livello globale penso che gli europei siano minacciati da un disastro economico incombente questo è dell'8 agosto ecco e non ritengo che scenari come quelli della seconda guerra mondiale possano ripetersi in Europa io crocio le dita e tocco ferro quell'epoca è passata la cosa migliore che possiamo fare è proteggere i nostri figli e la nostra famiglia dal punto di vista economico in quest'epoca di transizione tra l'Europa di oggi e quella di domani quindi l'ho già appescoltato che in mezzo c'è l'Europa che fa una pessima fine potrebbe durare addirittura una decade tutto ciò bene prepariamoci non lo so guardate la Russia negli anni 90 infatti è andata avanti ben più di una decade in una tribolazione e adesso non è che bah se invece gli Stati Uniti vogliono una guerra militare in Europa noi non possiamo farci granché sempre più sperati per questo dico che dobbiamo pregare e sperare in un mondo migliore preparandoci al peggio prepariamoci al peggio speriamo per il meglio e cerchiamo di fare dei progetti sensati vabbè qua durerebbe ancora un'altra domanda la cultura occidentale sta sprofondando in abissi senza precedente a causa di decenni di ampia permeazione della nuova normalità nelle scuole università e negli istituti di ricerca pubblici privati il risultato sono intera generazione di soggetti funzionalmente ignoranti a suoi fatti alla falsa tecnologia alla scienza pseudoscienza ai doppi standard al pensiero di gruppo illogico insignificante condivido pienamente è chiaro che qualcuno è interessato in questo modo a preservare i privilegi elitari come ricominciare amma mia è lunghissima ragazzi come ricominciare io mi fermo qui così vi lascio un po' è stupendo è veramente è veramente bello veramente bello questo articolo questa intervista questa analisi noi ci fermiamo qui e direi che per questa settimana d'ordinaria follia abbiamo dato vi mando un carissimo abbraccio vi ricordo che il vostro sostegno è fondamentale i tempi sono molto difficili ognuno faccia quel che può nel suo piccolo se volete potete dare un piccolo contributo facendo un abbonamento attraverso paypal mensile oppure un contributo una tantum vedete un po' voi noi ci vediamo alla prossima riflessione domani mattina con 5 minuti oltre le nuvole un carissimo abbraccio a tutti e buona giornata domani mattina domani mattina domani mattina domani mattina